Con la Tevez, è partito Murata, Tevez, Tevez, Murata ha battuto, Tevez in aria, Tevez, ancora presso terra, calcio di rigore, calcio di rigore, esplode lo Juventus Stadium. E qui Carmacano ha commesso un errore pazzesco, pazzesco perché devo dire che era esterno Tevez, però ci stava la munizione quantomeno a Carmacano. Invece mi ha mangiato Vitale per protesto per aver chiesto la munizione in modo deciso all'arbitro. Perché guarda, qui è fortuito e poi Carmacano commette un fallo per Tevez, è bravissimo a mettersi la palla, però ormai è troppo largo per dire che qui la palla è troppo a sinistra dalla porta ed è giusto che non venga espulso, ma la munizione sì. Parte il tiro, Rete, Rete, Juventus in vantaggio, Carlitos Stavans.